delitti senza un perché nessun movente afferma la procuratrice in merito alla strage familiare di paderno non so perché ucciso sono uscito con la voglia di fare del male dice ai magistrati mussa sangarè reo confesso dell'omicidio di sharon verzeni medio oriente senza pace raid a gaza proteste di piazza e sciopero generale contro netanyahu in israele secondo biden il presidente israeliano non fa abbastanza per il negoziato papa francesco decolla per il suo 45esimo viaggio apostolico a cavallo di asia e oceania visiterà quattro paesi indonesia papua nuova guinea timoreste singapore per oltre 30.000 chilometri di percorrenza germania aspira forte un vento di destra alimentato dallo scontento sulle politiche migratorie alternative furdeosland primo partito in turinia e secondo in sassonia il mese di settembre coincide con la fine delle vacanze estive il riemergersi nella routine quotidiana può portare ad un vero e proprio stato di malessere nel tg 2000 e consigli per rimettersi al passo 18 27 minuti una manciata di secondi benvenuti al tg 2000 buonasera dunque nessun movente valido dietro la strage di paderno dugnano il 17enne accusato di aver ucciso i genitori e il fratello minore ha parlato di un malessere di un'oppressione avvertita in famiglia spiega la pm che sta conducendo le indagini comunità sotto shock vediamo i servizi di elena seno e raffaella frullone la confessione arrivata inizio interrogatorio al 17enne a quel punto si è attribuito tutti e tre gli omicidi del fratello di 12 anni della madre e del padre ha ritrattato la prima versione fornita invece al 118 da lui allertato e ai carabinieri intervenuti a loro aveva riferito di aver accoltellato il papà dopo che il genitore aveva ucciso la mamma e il fratello una versione che ha cominciato presto mostrare lacune come spiegato dagli inquirenti nella conferenza stampa in cui hanno fornito i primi elementi sull'accaduto allora arrivo le forze dell'ordine hanno trovato il ragazzo su un muretto fuori dalla villetta di famiglia paderno dugnano vicino a lui a terra un grosso coltello si presentava sereno e lucido riferiscono i corpi delle vittime sono stati rinvenuti nella camera da letto dei ragazzi il giovane avrebbe prima colpito il fratello e poi i genitori sopraggiunti un movente non c'è detto la procuratrice del tribunale per i minori sabrina di taranto è il perché la grande domanda di questa di questo caso però il perché è sempre la cosa più difficile da raggiungere nell'interrogatorio il giovane ha parlato di un suo malessere un senso di estraneità rispetto al mondo il pensiero di uccidere lo aveva da qualche giorno ha riferito ancora la pm ora ha capito che quello che ha fatto è irreversibile e se dalle indagini forse potranno arrivare risposte ci sono considerazioni che riguardano tutti quello che posso dire che i giovani manifestano manifestano un malessere importante importante soprattutto negli aspetti che riguardano la socialità è in aumento questo disagio e purtroppo spesso e volentieri possiamo fare molto poco perché non possono rivolgersi autonomamente a per un consulto psichiatrico o psicologico un ragazzo come tanti di una famiglia come tante e il male apparentemente senza senso che sconvolge questa normalità oggi appesantisce l'area paderno d'ognano comune di 47 mila abitanti alle porte di milano che stamane si è svegliata con la pioggia e tante domande fino a sabato sera quella di via anzi era una villetta in cui si stava festeggiando il 51esimo compleanno di un papà imprenditore dile con amici e familiari poche ore dopo un ragazzo di 17 anni aveva ucciso a coltellate i suoi genitori e il fratello compromettendo per sempre la sua stessa vita tutti si chiedono perché per il giorno dei funerali il sindaco a navarisco ha proclamato il lutto cittadino e disposto bandiera a mezz'asta ma oggi a prevalere sono sconcerto e commozione c'è da preoccuparsi veramente dove stiamo andando a finire lascia libiti soprattutto come una famiglia tranquilla riesca a capire questo il tormento che abbiano questi ragazzi giovani dentro di sé una cosa terribile una sofferenza enorme per tutti molto molto mi piace così un ragazzo e io dolore detto l'amore cioè io non ho parole veramente mi dispiace tantissimo ma una cosa qualche famiglia giovane ieri ci diceva siamo un po' soli ecco non c'è noi per esempio abbiamo sempre vissuto con una comunità no i nostri ragazzi ci dicevano che voi ci siate o non ci siate dovunque noi andiamo ci sentiamo in qualche modo da una parte protetti e da una parte controllati oggi questo non c'è più un altro delitto senza motivazioni appare quello di Sharon Verzeni sono uscito di casa con una sensazione che mi ha portato a fare del male ha detto un Musa Sanghere l'uomo accusato dell'omicidio interrogato oggi dal GIP sentiamo Caterina Dall'Oglio entrambe le aggravanti quella della premeditazione e dei futili motivi sono state riconosciute dalla giudice per le indagini preliminari a Musa Sanghere il trentenne ero confesso dell'omicidio di Sharon Verzeni l'uomo davanti agli inquirenti ha confermato quanto già detto al PM nel primo interrogatorio ripetendo che non c'era un movente e di non sapere il motivo per cui ha coltellato la giovane Sanghere come ha riferito il suo legale ha detto al GIP di essere uscito di casa con una sensazione che lo ha spinto a voler far del male inoltre ha detto che nei giorni prima aveva fatto una sorta di esercitazione anche con una statua ma avrebbe anche aggiunto che non era uscito in strada con l'obiettivo di uccidere ha ammesso di fare uso di droga ma non la sera dell'omicidio e ha ricostruito come due giorni dopo il delitto abbia realizzato quel che aveva fatto e si sia liberato dell'arma gli altri coltelli li ha gettati nei giorni successivi quando ha tra l'altro modificato il manubrio della bicicletta ha inoltre detto che si manteneva con entrate saltuarie per via di qualche lavoretto nel campo musicale e che non ha mai pensato di fuggire anche in quest'ultimo interrogatorio i suoi discorsi sono stati definiti sconnessi spesso si è interrotto chiedendo di ripetere la domanda il suo racconto è sembrato molto confuso cosa che dovrebbe portare o a una richiesta di consulenza psichiatrica o di una perizia oggi si è svolto anche un nuovo sopralluogo dei riss nella casa occupata dall'uomo a cui sono stati convalidati il fermo e la custodia cautelare in carcere in israele adesso dove si surriscalda la protesta contro netaniao arresti e feriti intanto amasse pubblica un video con le immagini dei sei ostaggi uccisi massimiliano cocchi voli aere in ritardo cancellati all'aeroporto di tel aviv operazioni chirurgiche non urgenti rimandate all'ospedale di haifa e poi marce e raduni a tel aviv gerusalemme e in molte altre città israele sotto sciocche centinaia di migliaia di persone hanno aderito allo sciopero generale contro il governo netaniao accusato di rallentare consapevolmente i negoziati per il cessate il fuoco a gaza ed il rilascio degli ostaggi ad alimentare la rabbia e la frustrazione degli israeliani il ritrovamento dei corpi di sei giovani ostaggi assassinati a sangue freddo sabato notte in un tunnel di gaza nel pomeriggio sui canali telegram vicini a damas è stata annunciata con cinico tempismo la diffusione di un video degli stessi ostaggi girato prima che venissero uccisi durante le manifestazioni cominciate già ieri sera ci sono stati scontri con la polizia e almeno 25 persone sono state arrestate la richiesta della piazza è di trovare un accordo a tutti i costi per riportare a casa gli ostaggi ancora vivi e di corpi di quelli uccisi lo sciopero che doveva finire alle 18 e che invece il tribunale del lavoro anticipato alle 14 e 30 è stato definito una vergogna un favore ad amass da netaniao che durante una riunione del suo gabinetto ha ribadito di non voler ritirare le truppe dal cosiddetto corridoio filadelfia la zona cuscinetto tra la striscia di gaza e l'egitto che resta il nodo irrisolto del negoziato stati uniti catare ed egitto paesi mediatori hanno pronta una nuova bozza di accordo che nei prossimi giorni sarà sottoposta alle parti un accordo prendere o lasciare hanno fatto sapere funzionari americani joe biden alla domanda diretta di un giornalista ha detto che netaniao non sta facendo abbastanza per arrivare alla tregua intanto a gaza la guerra continua almeno 11 persone sono rimaste uccise in un attacco aereo israeliano su una scuola che secondo un portavoce palestinese ospitava sfollati ma nonostante i raid prosegue la campagna di vaccinazione antipoglio dei bambini nella striscia il servizio di federico plotti all'ospedale al nasser di cagnoni se siamo nella parte più meridionale di gaza si lavora senza sosta è così da quasi un giorno da quando è iniziata la campagna vaccinale contro la poliomielite in tutto il territorio della striscia quasi una catena di montaggio con i bambini che arrivano uno dopo l'altro e dopo aver ricevuto il vaccino via orale vengono segnati sulle dita per capire chi è già stato immunizzato a gaza è una corsa contro il tempo per fermare una pericolosissima epidemia di un virus che qui non si chiedeva da oltre 25 anni e il cui vaccino è stato sviluppato e diffuso da un medico ebreo albert bruce sabin alla fine degli anni 30 un caso isolato qualche giorno fa ha fatto scattare l'allarme e così l'oms insieme alle organizzazioni che lavorano nell'enclave palestinese ha prontato un piano straordinario per avviare la profilassi per oltre 640 mila bambini sotto i 10 anni tra gli operatori e volontari che stanno prendendo parte a questa operazione straordinaria anche quelli della caritas gerusalemme 75 in tutto con l'aiuto della caritas italiana in poco più di 24 ore sono oltre 85 mila i piccoli che hanno già ricevuto il vaccino ma il lavoro è ancora lungo e soprattutto dipende innanzitutto dalla solidità della tregua che israel e hamas stanno per il momento concedendo e rispettando per permettere proprio le vaccinazioni papa francesco è partito poco fa dall'aeroporto di fiumicino per il suo viaggio in asia sud orientale e in oceania il 45esimo del suo pontificato che porta 65 i paesi visitati dal pontefice 4 saranno quelli toccati da bergoglio fino al 13 settembre in questo suo itinerario tra asia e pacifico il suo più lungo viaggio internazionale con 12 giorni di durata e oltre 30 mila chilometri di percorrenza indonesia papua nuova guinea timorest e singapore prima tappa dunque del viaggio l'indonesia il paese con più musulmani al mondo con cristiana caricato l'attesa per l'arrivo del papa nella capitale giacarta vediamo tra le affollate caotiche vie di giacarta matura l'attesa per papa francesco nel negozio di oggetti religiosi maria regina sasongo è impegnata ad accogliere pellegrini e clienti tutti incuriositi da magliette statue che riproducono il sorriso del pontefice è il termometro di una vigilia incandescente per la capitale dello stato arcipelago prima tappa del viaggio che porterà francesco a toccare oltre all'indonesia papa nuova guinea timoreste singapore i primi giorni nel paese con più musulmani al mondo saranno un test importante per verificare i temi della visita nel sud est asiatico dialogo e armonia tra le fedi prima di tutto l'indonesia per il vaticano è un esempio di armonia religiosa e tolleranza è un paese con la più grande popolazione a maggioranza musulmana del mondo una delle più grandi ma a parte alcuni piccoli conflitti a livello di base in generale l'indonesia è armoniosa sicura e pacifica in realtà la convivenza nella marea islamica dei 34 milioni di cristiani la più corposa minoranza religiosa del paese non è facile nonostante la costituzione sancisca l'unità nella diversità il fondamentalismo islamico assegnato con il sangue il recente passato delle 17 mila isole sebbene il galoppante indice di conversioni adulte 4 mila l'anno indichi un interesse sincero per il cattolicesimo tra i gesti più attesi la visita di francesco alla moschea ist khal di giacarta la più grande in questo angolo di mondo collegata da un tunnel sotterraneo il tunnel dell'amicizia alla cattedrale di nostra signora dell'assunzione la presenza di francesco colmerà il vuoto in cui si coltivano odio e pregiudizi la guerra in ucraina ancora bombardamenti su kiev mentre putin parte alla volta della mongolia alessandra camarca nell'ucraina sconvolta da due anni e mezzo di guerra non si fermano gli attacchi nella notte una pioggia di missili e droni sono stati lanciati sul paese secondo quanto riporta il presidente ucraino in un post su x la russia ha sparato un totale di 35 missili compresi quelli balistici e 23 droni colpita anche la capitale kiev dove sono state segnalate una serie di potenti esplosioni colpito anche un centro culturale islamico in una moschea della città come racconta vadim daskesky guida spirituale musulmana oggi a seguito di un attacco a tradimento il centro culturale islamico e la moschea sono stati parzialmente distrutti ora siamo all'interno della moschea e come vedete le finestre le porte sono state fatte saltare il soffitto è stato danneggiato quasi l'intero centro culturale islamico ha subito moltissimi danni nel frattempo il ministero dell'interno ucraino ha riferito che l'esercito russo ha condotto un attacco aereo sulla città di sumi durante la notte secondo il comunicato l'attacco ha colpito un centro di riabilitazione sociale e psicologica per bambini e sei condomini assumi le prime informazioni indicano che 18 persone sono rimaste ferite tra cui sei minori putin intanto è arrivato in mongolia dove accusa l'ucraina di fare una guerra per procura per conto dell'occidente in francia dopo mesi di stallo macron sarebbe pronto a varare un governo di centro in germania nelle elezioni in turinia e sassonia forte affermazione dell'estrema destra i servizi di luciano piscaglia e barbara masulli nuova giornata di consultazioni per emmanuel macron impegnato nella difficile ricerca di una soluzione alla crisi politica che da quasi due mesi paralizza la francia dalle recenti elezioni anticipate è emerso infatti un parlamento in cui i tre principali raggruppamenti la sinistra il centro di macron e l'estrema destra escludono la formazione di un governo di coalizione in mattinata macron ha ricevuto l'ex primo ministro ed ex socialista bernard kazenev nel pomeriggio ha visto il leader della destra moderata xavier bertrand entrambi sono considerati i più accreditati candidati a prendere il posto dell'attuale premier gabriel attal ma non si esclude la sorpresa di un nome nuovo un tecnico rappresentante della società civile tra i due il presidente francese ha incontrato anche i suoi predecessori all'eliseo françois hollande nicolas sarkozy secondo il suo entourage macron potrebbe lasciar trascorrere l'intera giornata caratterizzata in francia dalla riapertura delle scuole e nominare il suo nuovo primo ministro domani o mercoledì l'evento ha una portata storica perché era dalla fine della seconda guerra mondiale che in germania le urne non vinceva un partito di estrema destra è successo nell'elezione in turinia stato federato della germania dell'est dove la fede alternative for deutschland ha preso il 33 per cento delle preferenze no all'accoglienza degli stranieri no all'europa no alla società multiculturale questi temi bandiera del partito di bjorn ok che se è vero che non governerà perché difficilmente troverà alleati potrà comunque porre il veto su temi delicati come l'immigrazione anche nelle elezioni in sassonia la fede ha conquistato molte preferenze meno però rispetto alla sede u arrivato primo con quasi il 32 per cento dei voti male i partiti della coalizione di governo il cancelliere sciolz ha definito preoccupanti i risultati il nostro paese non può e non deve abituarsi a questo ha detto ma una riflessione sull'esito della tornata elettorale è necessaria gli analisti sostengono che l'estrema destra abbia intercettato il cosiddetto voto di protesta forse anche sull'onda del recente attentato di solingen rivendicato dall'isis nel quale tre persone sono morte chi ha votato la fede come questo signore con il cappello bianco dice di averlo fatto perché chiedeva un cambiamento politico chi non ha votato estrema destra è invece molto amareggiato penso sia una vergogna anche guardando alla storia della germania io sono un infermiere e lavoro con i disabili spero che non ci saranno conseguenze per chi è diverso da noi è molto triste che sia andata così questo è un inizio di settimana segnato da temporali su più regioni tra nord ovest e benetton nord della sardegna appennino centrale fino all'emilia romagna un'instabilità diffusa che durerà alcuni giorni che raggiungerà parte del sud e a proposito di maltempo è stato ritrovato il corpo della donna dispersa dopo la frana che si è verificata a san felice a cancello in provincia di caserta la 74enne agnese minieri era scomparsa il 27 agosto insieme al figlio che non è stato ancora trovato il mese di settembre coincide con la fine delle vacanze estive il rimmergersi nella routine quotidiana può portare ad un vero e proprio stato di malessere generale cosa fare sentiamo monica di loreto si chiama post holidays blues e il rientro dalle vacanze può essere un vero e proprio stress sia fisico sia psicologico tornare al lavoro a scuola o alla routine quotidiana non è semplice per nessuno ma per alcuni può essere ancora più difficile i sintomi più comuni possono comprendere sia la sfera mentale sia quella fisica e possono comprendere sensazione di stordimento difficoltà di concentrazione mancanza di iniziative e nervosismo i sintomi fisici possono manifestarsi con dolori o tensioni muscolari cefalee calo della qualità del sonno e problemi di digestione cosa fare allora il segreto a mio avviso è quello di di prendersi un po cura di se stessi di prendere anche il tempo necessario ascoltare il proprio corpo e riprendere le attività in modo graduale curando soprattutto quelle che possono essere l'alimentazione lo stile di vita prendersi proprio i tempi e solo questo alla fine garantirà il l'energia necessaria per affrontare la prossima stagione autunno inverno gli eventi autunnali vedranno il papa impegnato ad ottobre soprattutto nelle celebrazioni e nelle riunioni per la seconda sessione del sinodo dei vescovi sulla sinodalità ma non solo sentiamo rita salerno l'apertura e la chiusura del sinodo dei vescovi sulla sinodalità e la messa per le canonizzazioni di 14 nuovi santi sono gli impegni di papa francesco ad ottobre stando all'agenda del pontefice per il prossimo mese resa nota oggi dalla sala stampa vaticana il santo padre presiderà la messa di apertura della seconda sessione dell'assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi il 2 ottobre in piazza san pietro alle 9 e 30 mentre il 27 sarà impegnato nella celebrazione a chiusura dell'assise alle 10 nella basilica vaticana nel mezzo si colloca il rito di canonizzazione di 14 nuovi santi previsto alle 10 e 30 in piazza san pietro il 20 saranno elevati infatti agli onori degli altari alla presenza di moltissimi fedeli provenienti da ogni parte del mondo i beati manuel ruiz lopez e sette compagni dell'ordine dei frati minori i laici francesco moti e raffaele masabchi uccisi in odio alla fede nella siria del 1860 anche il piemontese padre giuseppe alla mano sarà santo in vaticano infatti saranno presenti anche i missionari della consolata da lui istituiti nella lista figurano anche due donne marie leoni paradì religiosa canadese fondatrice della congregazione delle piccole suore della santa famiglia e l'italiana elena guerra che ha dato vita alla famiglia religiosa delle sue roblate dello spirito santo beatificata da papa giovanni ventitresimo nel 1959 due medaglie d'oro azzurra nel pomeriggio dal nuoto alle paralimpiadi di parigi ore record del mondo nei 50 stile libero per simone barlam oro per federico bicelli nei 400 stile libero e bronzo per giulia terzi nei 400 stile libero e stamane argento a veronica iocco plebani nel paratriathlon donne l'azzurra era stata bronzo a tocchio 2020 argento anche per la coppia daila dameno e paolo tonon nella gara di tiro con l'arco misto bronzo per francesca tarantello nel paratriathlon donne ipovedenti pensava che la sua vita sarebbe finita dopo essere stato ferito sul campo in ucraina dalla paralimpiadi di parigi la storia di un soldato ucraino tornato dal fronte ora in gara per il suo paese fabio bolsetta quando fui ferito e sedevo in trincea avevo quasi detto addio alla vita è una nuova vita quella del soldato ucraino iveni korinez ferito in combattimento vicino alla città orientale di bakhmut nel marzo 2023 aveva pensato di morire la sua gamba sinistra è stata amputata ma 17 mesi dopo l'ex paramedico militare si è qualificato per la squadra nazionale di sitting volley ed è diventato uno di circa 140 atleti ucraini in gara ai giochi paralimpici 2024 di parigi c'era un pensiero nella mia mente ho 25 anni non sono stato da nessuna parte non ho viaggiato non ho visto il mondo e ora sto morendo è accaduto esattamente il contrario adesso sto viaggiando sono stato ovunque stati uniti cina e ovviamente anche l'europa la squadra paralimpica ucraina si è classificata sesta ai giochi di tokyo del 2021 e terza in brasile nel 2016 un altro modo di servire il suo paese e per korinez che si presentò all'ufficio di leva il giorno dell'invasione rossa in ucraina l'inizio di una nuova esistenza tennis agli us open agli ottavi si ferma la corsa della nostra jasmin paolini sconfitta 6 3 6 3 dalla cieca muciova stanotte in campo yannick sinner contro l'americano tommy paul ed ora a venezia la mostra del cinema in concorso del film italiano vermiglio sentiamo marino caldiero due i film che segnano la giornata odierna della mostra del cinema di venezia si va dal ritorno dietro la macchina da presa di pedro almodovar con la sua prima opera girata in inglese con interpreti titolo swinton e julian moore intitolato la stanza accanto e il secondo film italiano in concorso vermiglio di maura del pero per il quale il direttore del festival alberto barbera ha scomodato ermanno olmi paragonandolo all'albero degli zoccoli è un grande onore ma credo si riferisse proprio a questa metodologia di lavoro al fatto di lavorare con persone del luogo rispettando quindi il dialetto il luogo i tempi e per me era importantissimo perché proprio il mio desiderio quello di ricreare un mondo vermiglio è un piccolo paesino di montagna in val di sole trentino sul finire della seconda guerra mondiale una comunità dove tutti si conoscono ma c'è l'imprevista scombinare le cose nel 1944 quando il soldato disertore pietro che si è rifugiato lì fa innamorare lucia la figlia del maestro cesare interpretato da tommaso ragno che resta incinta il film è girato tranne pochi ruoli da attori non professionisti ed è nel dialetto di quel posto invece il cineasta spagnolo che è sempre più preoccupato degli anni che passano ne ha 74 e delle malattie che arrivano in questo caso infatti racconta una malattia terminale prendendo partito però per l'eutanasia stando anche alle dichiarazioni dello stesso almodovar a margine della proiezione del film ma il lito è anche una passerella per le stelle hollywoodiane che ieri con Brad Pitt e George Clooney hanno estasiato il pubblico con un balletto improvvisato davanti ai fotografi prima della proiezione di Wolf a Venezia anche Peter Weir autore tra gli altri dell'attimo fuggente The Truman Show Master Commander a cui la mostra assegna il leone d'oro alla carriera ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo restate con noi eccoci di nuovo insieme con una notizia di almeno 6 morti e 13 feriti il bilancio di un attentato kamikaze eseguito a Kabul la capitale dell'Afghanistan da tre anni sotto il dominio talebano lo ha indicato il portavoce della polizia di Kabul sul social X questo pomeriggio si è fatta saltare in aria una persona che aveva esplosivi collegati al corpo purtroppo 6 civili tra cui una donna sono stati uccisi altri 13 sono rimasti feriti ha dichiarato il portavoce ed ora il meteo e poi la Santa Messa il prossimo Tg alle 20 e 30 più tardi Grazie 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 Grazie